oggi partiamo la scoperta di una tecnica molto affascinante che permette alla cera di rivestire dei piani con un effetto finale raffinatissimo e molto molto suggestivo vediamo che cosa ci serve per affrontare questa tecnica allora un piano da ricoprire il piano deve essere proprio piano sia senza moda nature o curve poi ci serve la cera da sciogliere qui vedete un sacco di cera bianca in granuli e della cera naturale d'api ci servono anche dei foglietti di cera colorata come vedete qua uno stilo per tagliare a necessità uno stencil nel caso volessimo fare dei disegni della carta da forno perché quella che ci farà da base per non sporcare in giro dei colori di tanti generi soprattutto delle polveri e ancora ci servirà il ferro da stiro questo è proprio l'attrezzo particolare di questa tecnica poi naturalmente non dimentichiamo fornello e pentolini per il bagno maria per sciogliere la cera dunque in effetti vi presenteremo due varianti di questa tecnica la prima propone di rivestire con la cera un piano dopo che su questo sono stati appoggiati degli elementi che vogliamo inglobare questi elementi devono essere ovviamente molto sottili questo in fondo l'unico l'unica caratteristica che devono avere oltre a quello di non sciogliersi con il caldo lavoreremo su questo piano che sarà poi il fondo di un vassoio che abbiamo scelto di decorare con due cornici fiorite allora prendiamo la mascherina del nostro motivo e fissiamola in posizione poiché lavoreremo con la cera bianca è bene che il piano sia già dipinto di bianco con la matita ripassiamo il motivo finito di ripassare il motivo spostiamolo per continuarlo fino in fondo al nostro piano andremo avanti così ripetendo il motivo fino a completare il progetto che avevamo in mente vorrei riportato il motivo sul piano adesso lo riportiamo pezzetto per pezzetto anche sui foglietti di cera colorata perché dobbiamo ritagliare i vari componenti del motivo mantenete sempre sotto la carta che questi fogli hanno perché così il taglio sarà più semplice e pulito abbiamo tagliato i nostri foglietti di cera colorata adesso che abbiamo i vari elementi andiamo a posizionarli sul piano utilizzando il disegno che avevamo fatto all'inizio appoggiamo i vari elementi e li facciamo aderire con una leggera pressione delle dita passando di colori in colore la composizione del motivo prosegue posizioniamo anche gli ultimi pezzettini di cera colorata e il nostro motivo a questo punto è completo adesso si passa alla fase 2 sciolta a bagnomaria la cera bianca adesso con una pennellessa cominciamo a stenderla sul nostro piano vedete che la cera pian pianino si rapprende sopra i motivi rendendoli tutti più chiari dopo un primo strato ce ne saranno altri dobbiamo proseguire coprendo tutto accuratamente via via i motivi diventano più chiari perché la cera si deposita sopra di loro piccola parentesi sul pennello dimmi Ivana il pennello va sempre lasciato in ammollo a bagnomaria insieme alla cera logicamente è stato attento a lasciarlo abbandonare lì a se stesso ma mentre si lavora tenerlo a bagno in modo che le setole rimangano abbastanza morbide se invece io lo vado a appoggiare di fianco al mio lavoro o da qualche parte lui si secca abbastanza velocemente e ogni volta che lo vado a rimmergere ho un pezzo di legno dritto non ho un pennello quindi le setole abbastanza morbide ok quindi il pennello deve sempre riposare fra una spennellata e l'altra dentro nel pentolino stesso della cera chiediamo a Ivana anche quanto secondo lei è il momento di interrompere le spennellate di cera allora il momento di interrompere le mani di cera è quando i nostri disegni vanno quasi quasi a scomparire è sempre meglio dare più cera che meno tanto tutta la cera che poi andremo vedrete a togliere col ferro da stiro che ci rimarrà praticamente sui bordi esterni la potremo poi un'altra volta ributtare nella pentola e riutilizzare per il prossimo lavoro quindi non andrà sprecato niente ok quindi qua adesso più o meno ci siamo? sì sì dovremmo essere ci do qualche mano ancora e poi possiamo procedere col ferro da stiro ok allora adesso ci consideriamo soddisfatti e si passa alla fase successiva stiamo facendo indurire per qualche minuto la cera che abbiamo stesa quando ritieni che sia pronta? allora quando al tatto è fredda la nostra superficie sarà pronta per essere stirata stirata vorrà dire tirar via tutte queste rughe, queste righe che ci sono sulla superficie e fare risaltare di nuovo il nostro disegno questo si farà praticamente asportando l'eccesso di cera che c'è sulla superficie facendola cadere dai bordi ok adesso vedrete com'è quindi questo è il ferro che noi andiamo ad usare com'è questo ferro? allora io consiglio sempre di utilizzare dei ferri da stiro magari vecchi conciati perché poi non si potranno mai più riutilizzare per i tessuti a meno che non venga fatta una pulizia ma molto difficile io l'ho posizionato su una temperatura bassa sui sintetici non andrei mai a posizionarlo su un lino o su cose più calde temperature più calde perché se no ci va a stirare troppo in profondità a sciogliere troppo in profondità naturalmente niente vapore? no assolutamente ok allora il nostro ferro è caldo alla temperatura giusta ora lo prendi e vediamo che cosa fai è ancora caldo adesso è il momento o ancora no? no perché la superficie è ancora tiepida e invece bisogna aspettare proprio che raffreddi temperatura ambiente perché se no il nostro ferro andrebbe già a stirare una superficie già morbida invece abbiamo bisogno che la cera sia proprio bella secca ok allora aspettiamo ancora qualche attimo sono passati circa dieci minuti e adesso la nostra cera si è raffreddata quindi impugnato il ferro Ivana comincia il suo lavoro lo passa sopra il piano incerato con movimenti che vanno dal centro verso l'esterno allora adesso vado a sportare un po' di cera in modo da far di nuovo riaffiorare il disegno bisogna stare attenti a fermarsi prima di arrivare però alla cera proprio colorata sottostante se no col ferro da siro ce la portiamo tutta in giro e andiamo a rovinare il disegno la definizione del disegno adesso vado su questa parte prima scaldate un po' il punto con movimenti circolari quando vi rendete conto che la cera è sciolta andate a sportare la cera la cera rimane proprio sul ferro si ogni tanto se ce l'è in eccedenza meglio farlo un attimo se no continuiamo a riportarcela sul disegno invece noi quello che vogliamo fare è anche proprio si lisciare ma anche a sportare la cera in eccesso che ci va a coprire il nostro disegno e quando consideri finito il lavoro? io adesso lo considero quasi finito voglio solo lisciarlo ancora un filino in modo da portare anche allo stesso livello la cera in tutti i punti e poi quando in realtà il disegno affiora abbastanza da farlo vedere e quindi che si veda però rimane sempre velato un pochino perché è anche suo bello questo vedete un punto come può essere questo che si nota di più o questo angolino qua possono essere quei punti che se gli vado a passare ancora una o due volte il ferro da stiro si vanno a sciogliere proprio il colore stesso si va a sciogliere e quindi sporca poi la parte esatto quindi bisognava un attimo anche valutare se fermarsi a un certo punto ok quindi noi adesso lo riteniamo finito che cosa bisogna fare? lasciare raffreddare? lasciare raffreddare allora si va a toccare piano piano tutto sentendo se la superficie è liscia in tutti i punti per esempio qua io sento che non è liscia gli vado a dare un altro colpetto di ferro da stiro sempre uscendo verso l'esterno per cui si va a toccare se è tutta bella liscia a quel punto si lascia asciugare il lavoro è finito il nostro piano lo consideriamo terminato quindi adesso per le rifiniture cosa facciamo? allora con un bisturi andiamo ad asportare tutta la cera sul bordo in eccesso ricordiamoci che questa è cera che possiamo recuperare questi vari pezzetti li riprendiamo e li rimettiamo nel penteolino a sciogliersi non è un po' di più Grazie a tutti. Ok, questo piano poi è quello di un vassoio, l'avevamo visto. Dopo gli andremo a, magari prima coloriamo la struttura del colore che ci piace, poi gli andremo a bloccare, a fissare. Ossia inchiuderemo il fondo sulla cornice, perché così era prima che lo smontassimo per rifinirlo in questo modo. Allora, la durata nel tempo di questa tecnica. Questa ve la dico io, perché avendone in casa alcuni pezzi so esattamente come si comportano. Sono di facilissima manutenzione, si puliscono con uno straccetto inumidito. E se a lungo andare vi sembrano un po' appannati, basta ridare un leggero strato di cera e passare di nuovo il ferro. Nello stesso modo abbiamo realizzato anche il coperchio di questa scatola rotonda con un cuore rosso che abbiamo ritagliato da uno dei nostri foglietti di cera colorata. Perché non è necessario lavorare su legno come abbiamo fatto finora, si può anche lavorare su cartone, basta che siano superfici che resistono al calore. Adesso applicheremo questa tecnica in un'altra versione. Nel pentolino del bagnomaria, questa volta, abbiamo messo a sciogliere della cera naturale d'api. Come vedete è giallognola, perché proprio così esce dall'alveare. Questo è il piano di un tavolino. E su questo piano andremo a fare un intervento simile ma diverso di quello precedente, ossia useremo lo stesso genere di tecnica ma con un risultato completamente diverso. In questa variante della nostra tecnica useremo dei colori. Si tratta di colori in polvere. Adesso però cominciamo stendendo su tutta la base la cera naturale. Qui il fondo, come vedete, non è stato dipinto di bianco, perché in questo caso la cera non è bianca e quindi il bianco, al contrario di prima, avrebbe disturbato. Meglio un fondo neutro naturale, anche se macchiato non ha importanza. A lavoro c'è sempre Ivana, che ci condurrà anche in questa nuova versione della nostra tecnica. Quindi adesso cosa stai facendo, Ivana? Adesso diamo qualche mano di base di cera d'api e poi inizieremo a lavorare con i pigmenti. Lo strato deve essere alto, sottile? Medio, non sottilissimo, se no quando stireremo arriviamo subito al fondo. Direi medio, sì. Il nostro strato è pronto, dobbiamo lasciarlo asciugare un po' o no? No, direi che a questo punto si può addirittura andare con i pigmenti. Ok, allora cosa vuol dire andare con i pigmenti? Allora, si prendono dei pizzichi di pigmenti o si fanno cadere semplicemente così sulla superficie. Si scelgono i colori che si preferisce. Finora hai usato un arancio, un viola, un rosa, adesso abbiamo un rosso bordeaux. Diciamo che li stai distribuendo a piacere, non c'è un progetto di base ma così come ti piace metterli. Esattamente. Questa è la nostra tavolozza. Ora su questa tavolozza cosa facciamo? Allora su questa tavolozza facciamo cadere della cera d'api sui colori in modo un po' da bloccarli. Ci sono degli accumuli di cera in corrispondenza dei colori in pratica. Si esatto, perché dobbiamo andare a bloccare il pigmento in posizione. Allora su questa tavolozza facciamo? se non volete procedere col pennello potete farlo anche con un pentolino come in questo caso naturalmente tutto più veloce con il pentolino però lo strato che si forma è più alto per cui dopo dovrete stirare un po di più tutti i nostri colori a questo punto sono stati inglobati ognuno ha la sua cera che lo trattiene ok a questo punto che cosa si fa? a questo punto dobbiamo aspettare che queste macchie di cera si solidifichino e si asciughino e poi andiamo a intervenire col pennello e a riempire queste zone diciamo di cera più bassa fino a portarle quasi a livello di queste macchie forse a fare uno strato unico praticamente va bene aspettiamo si è indurita? si direi più certo quindi adesso stendiamo l'altra cera quella che deve riempire gli avvallamenti chiamiamoli così la cera naturalmente la devi stendere soprattutto nei vuoti cercando di evitare di andare sopra le zone già formate perché sennò si continuano continuano a aumentare il volume anche loro si esattamente infatti la mia non è una vera pennellata ma quasi fare cadere giù la cera dal pennello come vedete lì c'erano dei pizzichi di colore si sono stesi immediatamente ma va bene non è un problema e adesso poi colore lo dovremo tirare tutto no? si esattamente potremo proprio creare un effetto marmorizzato e dopo questa stesura bisogna ancora aspettare che si indurisca si 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 ok non proprio liscissimo ma il nostro pannello praticamente è completato adesso dobbiamo farlo asciugare completamente la cera ha preso la consistenza giusta è abbastanza dura anzi è dura perché è totalmente asciutta e fredda e allora cominciamo con il ferro scopo di questi passaggi se non mi sbaglio è vana è quello di sciogliere la cera di lisciarla appiattirla e contemporaneamente stendere e spostare e diffondere un po' i colori esattamente esattamente vogliamo proprio creare questo effetto come ho detto prima marmorizzato e ci serve il ferro da stiro in modo da lisciarlo portare tutto più o meno allo stesso livello e a spargere i colori in maniera armonica diciamo per cui in teoria in questa fase di lavoro uno può considerare finito quando gli piace può andare avanti allora non troppo perché sennò la cera scivola via tutta dal piano se uno va troppo a stirare per cui c'è un limite però si può giocare molto più e in teoria poi se ne possono aggiungere anche altre questo lavoro è tutto un gioco una scoperta si può proprio provare anche fare proprio dei tentativi anche perché se gli strati aumentano non è che poi il lavoro ne perde anzi il ferro è arrivato a sciogliere la copertura del colore e qui vediamo che il verde si sta diffondendo ecco che adesso muoviamo anche il rosso quando il colore si deposita in eccesso sul ferro è meglio pulirlo via con uno straccio di carta e e e e e e e e anche a questo punto si può intervenire con i colori qui per esempio dove queste macchie di verde hanno preso una forma che non ci piace tantissimo mettiamo un pochino di polverina gialla e vediamo che effetto avremo oltre che un po' di colore in più si possono mettere anche delle pennellate di cera in più dove si vuole modificare un effetto ottenuto comunque come avrete capito questo è un lavoro che nasce via via e che quindi ognuno deve agire e modulare come vuole qui abbiamo aggiunto del giallo puro ecco l'abbiamo steso e inglobato anche qua abbiamo messo del giallo puro e vediamo come trattarlo ok proviamo a tirare un po anche questo bordo e ora ripassiamo anche lì dove avevamo messo della cera la parte qui in fondo è un po' vuota abbiamo messo del pigmento rosso e adesso lo tiriamo direttamente spugliamo il ferro che si era caricato di rosso e ripassiamo ancora stendiamo un po' di cera perché in questo punto ormai l'abbiamo quasi sciolta tutta intanto che la cera che abbiamo steso è ancora morbida mettiamo un pizzico di colore e di gocce di cera per fermarlo lasciamo asciugare un po' e passiamo di nuovo come sempre il ferro caldo ogni volta che passate il ferro quello che risulterà sarà una sorpresa per cui adesso vediamo che si sono formate delle bolle tipiche da marmo delle striature tipiche da marmo però il chiaro di base non siamo riusciti a eliminarlo stiamo aspettando che la cera si raffreddi perché raffreddandosi i colori possono anche variare leggermente qui in fondo infatti dove prima era molto chiaro adesso la cera naturale fa riaffiorare il suo color ocra di base come passaggio finale di questo nostro lavoro adesso andiamo con del glitter lo versiamo come avevamo fatto prima con le terre colorate e poi passiamo un rapido ferro caldo ok adesso versiamone dell'altro anche di altri colori e anche del verde l'abbiamo distribuito in questo modo siamo andati a colorare anche le zone che erano rimaste più uniformi e più chiare là dove ci sono i gialli abbiamo messo del glitter dorato e l'abbiamo sparso anche lui con il ferro abbiamo ancora delle glitter rosa che mettiamo vicino al rosso ok questa è la nostra marmorizzazione della cera questo effetto anche se cercherete di rifarlo non vi verrà mai perché ogni volta il risultato è diverso quindi è proprio un puro fattore un puro lavoro di fantasia ogni volta quello che vi risulterà sarà diverso dal precedente ma ogni volta sarà affascinante adesso lasciamo ad asciugare e poi lo monteremo c'è una cosa che ancora dobbiamo dirvi l'effetto al tatto di queste superfici è fantastico perché è morbido, vellutato, dolcissimo verrebbe voglia di accarezzarli continuamente naturalmente anche questo piano ora verrà pulito come per il vassoio l'olio si taglierà tutto attorno e poi lo metteremo nel nostro tavolino nello stesso modo stiamo preparando questa cornice cera naturale macchie di colore adesso lo tireremo col ferro e poi lo finiremo con il glitter avremo anche qui un risultato marmorizzato come per il piano che abbiamo creato e anche qui quello che apparirà sarà una sorpresa ripuliamo il nostro piano come abbiamo fatto per il piano del vassoio eccolo qua tagliamo via tutte le screscenze che in questo caso sono anche di più e tutte molto colorate in questo caso il recupero della cera è più problematico perché naturalmente una cera è molto 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 non bellissimo in effetti da utilizzare però potete ugualmente utilizzare questi avanzi per fare una candela e se poi la volete di un colore definito la mergete come ultimo passaggio in una cera colorata per esempio la cera bianca così che si formi uno strato del colore desiderato sopra la candela fatta con questi avanzi questo piano adesso rifinito tornerà sul suo tavolino prima naturalmente metteremo il tavolino un po' a posto perché ha bisogno di un po' di restauro e poi questo sarà comunque l'effetto finale l'effetto finale oltre che di bellezza è anche di morbidezza ossia il piacere di toccare questa cera è al di là di ogni possibile descrizione ciao 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 ciao